Buongiorno, qui siamo a Bacis, provincia di Pordenone, sempre nel parco del Domitipiulane, sulla fonda nord del lago. Abbiamo fatto un altro incontro con una bellissima edicola dedicata alla Vergine del Lago. Questa si erge su questo basamento, che notate, ubicata in una posizione veramente interessantissima, molto significativa, esattamente all'incrocio con un sentiero molto antico, di cui ancora vediamo il cerciato, che conduceva a un'antica chiesa, la chiesa di San Daniele del Monte, che era ubicata sul Monte Lupo, lassù, e di cui attualmente rimangono solo i luderi. Questa piccola edicola, diciamo, rimaneggiata, restaurata, molto curata, con una statuetta della Madonna dei Rosari e un'altra piccola statua. La cosa molto interessante, andiamo a vedere, è il testo. Il testo, come vediamo, è realizzato in elementi piatti di laterizio ed è tipico della zona di Barchis. Ecco una foto dell'edicola addossata alla roccia con questi fiori, un autentico segno di devozione. Ed ecco la statuina della Madonna. Purtroppo la possiamo vedere all'interno perché è chiusa con un caccello. Grazie, arrivederci.